Un questionario affidato ai ragazzi di una scuola per provincia, rappresentativa degli istituti di tutto il loro territorio. Le risposte arrivate hanno restituito un'immagine di ragazzi spesso connessi, ma meno consapevoli di quanto ci si aspetterebbe. È il risultato della campagna di prevenzione contro il cyberbullismo nel Lazio. La voluta è il Comitato regionale di controllo sulle comunicazioni, competente anche su questa materia, in particolare sui media e sul web. Per il Presidente Petrucci si tratta di una sfida globale, ancora lunga e difficile, che si vince però con il coinvolgimento di tutti, a cominciare dai gestori delle piattaforme social. Noi cogliamo e facciamo delle fotografie nel Lazio, perché siamo il corno del Lazio, ma ripeto, sono temi e sono risultati e sono suggerimenti e sono indicazioni di politiche e di mezzi e di strumenti e di regole che si applicano ormai dappertutto. Noi abbiamo la fortuna, come dicevo prima, di lavorare in un settore che è un settore delle comunicazioni, che è un settore che ormai non ha più tempo e nemmeno spazio, per cui tutto ciò che emerge da questi studi è pari pari trasportabile a livello nazionale e a livello europeo. Il segnale lanciato dal Core come ai ragazzi e alle ragazze è che non bisogna avere paura e se qualcuno minaccia attraverso il web o le piattaforme social bisogna subito avvisare un adulto che provvederà a seguire la procedura con cui interrompere quegli abusi. C'è una legge nazionale che ormai è un anno e mezzo che è operativa e che probabilmente va un po' ritarata, c'è una legge regionale che dà aiuto e contributo agli enti e alle scuole che vogliono affrontare questo tema, ci sono le direttive dell'Unione Europea che evidentemente costituiscono un po' il caposaldo iniziale di questa filiera.